non sono lì non sono il 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 Sì, eee, torno Vartetti. Guarda gli stanchi online. Ah, Garletto, ora! Chi me lo invito? Narcos! Chi è Narcos? Porg parapopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopoppopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop ma anche a ps3 di mann i video niente si 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 Sì, non è vero. No, 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 no. Controllate l'equipaggiamento, gli aerei si stanno preparando allo schieramento. E' un modo girafato. Ok, può bastare. Adesso combatteremo per davvero. E' un po' di più. E' un po' di più. E' un po' di più. Gigi. Gigi. Gigi, è un piccolo microfono. Non ci puoi organizzare. Battle Royale. Indica un punto di lancio. Conduci tu il team. Ah si è più piccolo. E' un po' più piccolo. Che mi sembra? Ahi. 9 coordinate in arrivo. Mi hanno colpito. Versagli disponibili. Al lavoro. Un nemico in discesa nell'area operativa. Oh no. Scusa. Scusa. Appicciono mi roba. Oh bella. Con il mio finito nel gulag. Chi sopravvive lì torna in prima linea. Scusa la gulag. Oh, ha già giunto il tuo culo. Granata per me. Oh. Che c'è poi? Chi si è qua? Completa. Apofattila. Maruston. Scusa. Scusa. Guarda tagli. Chi c'è? Ah, ecco. State perdendo terreno. Sono rimasti noi due. Attenzione. Il vostro compagno è stato sconfitto. Sta tornando alla base. Cazzo. Che c'è il culo. Ma cazzo. Eh no. Non mi piace. Quanto ci vuole per arrestarlo? 4.000. Ma chi non ci dispone mai? Non ci riesce a rissarmi. No, ci sta, ci sta. Vabbè, da parlare. 1.6. Oh. Ma fai, mi hanno sparato qui. Ah, fai, mi tagliato questo. C'è un miliotto. Maronna mia. Ma che cazzo stai nella fai? Ma non ci capisci. Ma hai pensato a stare a me tu. Eh, è raro questo kill. Vì. Un one shot. Compagno finito nel gulag. Chi sopravvive lì, torna in prima linea. Mi buttano. C'è mamma te. Il vostro compagno è stato sconfitto. Sta tornando a... È tutto nelle tue mani. Vinci! Ahi. Però io stai immagistri. Vabbè. Ma... Ma come ho finito? Eh, a fai... Ma tu... Ma ci... 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 Ci stanno sparando. Ma fatti la... Ci stanno sparando. Oh, che bello. Eh, esse... Perché mi scorta sempre che alcun... L'altro sia finito. L'altro sia finito. Ora si fa sul serio. Vabbè non ci penso a dire. Mentre aspetti insulta pure quei bastardi. Vabbè non ci penso a dire. C'è sempre qualcosa da lasciargli addosso. Non fai con me. 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 Fai con me. Tu nè. Sì, vuoi con me. Non fai con me. Vabbè non fai con me. Non fai con me. Non fai con me. Vabbè non fai con me. No, che bello. Veniamo via. Ho finito il sera. Come vabbè non fai con me. Ehi, l'hai fatto a pezzo! Guarda qui! Ehi, l'hai fatto a pezzo! Non so se c'è chi c'è il risparmio! Ma fai, ma che fai quando sui lanci e qui si mettono? E c'è una scimmia assata da andare! Ho un contratto ricercato! Gassi in arrivo! Oh! La risparmio! Designazione di ricercato accettata! Ora sei un bersaglio! Elicottero! Così va meglio! Lo sai, l'hai fatto! Avanti! Il messaggio di spazio è già di! Si, si, si! Si, si! Allora, l'hai fatto a me, l'hai fatto? Ah, l'hai fatto a me, l'hai fatto? Ah, l'hai fatto a me, l'hai fatto a me, l'hai fatto a me! Ah, l'hai fatto a me, l'hai fatto a me! Ah, l'hai fatto a me! Ah, l'hai fatto a me, l'hai fatto? E, se, quella! Ah, l'hai fatto! Ah, l'hai fatto a me! Beh, vula! I quedbi... Lo piloto io! dobbiamo restare un minuto in giro non è stato eh avrò un pozzo fa che è mettito ricerca da due minuti da un centimetro di spazio la zona sicura come faccio ma voi però c'è chi va a roma potrà fare come facciamo anche o lanci non scendo a pombelli non mi conviene tutto a che è sotto mi muovo di qua ci siamo presi molte bombe le fai ma te ne vedi a questo gas è a fila di gas i motori quanto non è lungo lo pazzo si sta attento ci sto ma non sai chi ci va a stare se l'elicotter ma lo so cosa è il mio pochicchio no lo so arriva il gas ma già si aiuta un pochicchio 10 rimasti ci sei quasi eh 10 rimasti eh 10 rimasti eh 10 rimasti eh 10 rimasti ora fai immagina dove è giocato all'elicottero eh stai in volo stai in volo stai in volo ma sempre 10 rimasti sono chi ti sta tutto vuoto da quella campionata nuovo nuovo vedi eh nuovo eh stai chiedendo pure il gas ma mi sa che sono quelli che vengono rischierati sei sopravvissuto ecce oh 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 ma ho messo il gas eh si una sicura riposizione a te riesce una non restata 5 4 vai sparare sparare per che si piglia la scala dell'elicottero oh ma è ucciso oh ma è ucciso ah ma è ucciso eh non lo so come poter venire a uscire così ma non diamo niente capito vai tu mi posso proprio scendere più in giù scendere più 8 giusto perché mi hanno uscire a me 7 ora mi hanno uscire a me però non ci sono le tagliate 2 o 9 eh allora mi fai uscire a me 7 il c***o ma non ti posso scendere eh sì sì andrete a te mi ha messo il gas lo zucco l'hai visto là eh corta questa scalinata da l'uco non fai la scaletta non fai corta brava eh brava ah sai che tiene pure la porta di faccia là eh ti conviene di mettere l'angolo da l'uco non fai non fai l'angolo da l'uco eh l'uco non fai non fai non fai non fai 5 rimasti 5 rimasti 5 rimasti non fai 7 e mi metto un ricordo con una c***o con ah no vanno venire vanno venire vanno venire vanno venire e vanno venire a scolettare da te 3 non fai non fai vanno venire a scolettare da te e vanno venire a scolettare da te rinforzare da te che puoi venire che puoi venire a scolettare da te eh mo va molto, va molto va il loco, loco è il cittadino, a destra a destra vai a lui vai amore no a destra la scalina va bene a destra la scalina a destra a destra, vado a non schiacciare vittorio, com'è vittorio vittorio perchè 4 seconda non è la nostra che faccio un'altra va bene si va a destra, stiamo a la porta a voi, prevede sempre quello che faceva che non è la nostra no, quello che faceva in senso che non lo so che cazzo faceva con che esce non mi piace questa modalità e fai tu fai io no si tu allora e io mi faccio un risultato guarda che non ci sono in scienza non ci ho visto casino non ci ho visto niente quasi c'è un po' paese ma paese non lo so 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 c'è ogni po' di cui chiamare chi si ha il 5 minuti è che è? a questo non lo so bordo è saprò bordo è ma se qua chi ha il 5 minuti? Zindrey chi è Zindrey è il 6 paese il ma il magres ci cazzo è muovigliano a lorenzo ma chissà l'angoppo a cold war ha già invitato passa a cold war a capo narcos accessibili narcos ah ma non ma non trovo perché ma da male se pare di seren si sta collegando eh come si collega si collega si collega che ma fa mi fanno maloppo no va ritorno a quartetto eh prima chi ci mette il biciclino sempre cogo l'arghia però diciamo ci sta bene ma spiega me ne si possa sapere lo sta Sassi pa, su scuola. No sa George. George e San George. Sassi scritti? Allaci? Produto. In attesa dello schieramento, è un buon momento per riscaldarsi. Ah, ci stai, gli scordoni ne hanno rivolto. Oh, ma va troppo, ma... Non ci fa meglio. Mi hanno colpito, mi hanno colpito! Fine del riscaldamento, si aprono le danze. Non, non è... Oh, non è... Non ci sono alcuni, non... Non ci sono alcuni. Non ci sono alcuni. Non ci sono alcuni. Ma non è... Il c'è stato di capo, non ci sono alcuni. Battle Royale, indica un punto di lancio per il team Evitate il gas, andate alla zona sicura No, ma ci dà un po' adesso, che mi è sciato a me Oh, Raffaele, se tu che vuoi andare, Raffaele Ma l'ho, eh, sto a capo, sto a terra Van Gogh, sono un carico, ma sta a bacio sul muro Bene, gente, diamoci da fare La vittoria difende da te, completa la misura Uapi, nemico in volo Mi muovo di qua Non so se c'è il rumore dei passi, non so se c'è il rumore Testa, sinistra, capisci? Nuove cordiate in arrivo Non scena parte Oh, mamma mia, fatta la mia La vittoria difende da te, costretta la missione Fatta la mostra da te, compagni mi Eh, perché sei quella di strada? Oh, mamma mia, mamma mia, mi scorda sempre di carica, ma questa va a fare Che mi scorda sempre di carica Ssss, ma vaffanculo C'ha mai fatto un scema, perché immagini scudate di carica Un piccolo nemico, di fronte No, lasciamo stare C'ha vaffanculo Corso, ne fai Oh, l'ho qua Non gli diamo di spazola, è vero Eh, non ce l'ho visto Ma fa, la mica frizzica Ma voglio, ma che succede? Non c'è tempo di riposare Non c'è tempo di riposare Io non c'è tempo di riposare Non c'è tempo di riposare Ma che cazzo è il mancimigliato, che è? Ah, è un po' che pesce, inzima Oh, razz, sanno qua where? Where? Ostile in discesa nell'area Di nuovo di qua Occhio in alto Qua ci stanno tutti nella zona sicura la vita fuori di colpo ma gli ha visto un luogo mi portano attenzione a chi non lo so come va oggi ma parla solo con george cosa ne si chiama un gioco vale gettuno si io credo a rostano ma che successe nessuno qua ma c'è ora la voce ne fai Stai nessuno, io non vi invito mai più Faccio dire Mi fai un cazzo, ragazzi, stai giocando Eh, voglio, ma la rossa, di momento vado insieme a Giorgia Non vi invito più Vuoi di nuovo o no? Perché nessuno è lui online, voglio A meno che non è baggato tutta la madonna dell'arco Non lo sa Poi la mandata, forse non mi invito, forse è così, forse è cattivo, forse è così Ah, io questo è un bidone È caduto, ne fa No, sto sciunendo, che brei Non ti immagino, un stonera ci portata Praticamente a livello 50 Ancora parecchio C'è il console che dà il nuovo problema Noi stiamo giocando tranquillamente, siamo entrati Non è successo C'è uno spesso di problemi con più pc, eh, io per console allora Non lo so, ho letto su Facebook che ci stanno 8000 problemi, però non ci capito fondamentalmente che cazzo è successo Io ma non vedo nessuno di voi un momento online Come sono i nomi loro? Eh, una è cyber-serve, o no? No, ma cyber non sto online Ma la mia stava caricando, vedi? Qua cosa sta bene Comunque, una nuova ha fatto l'aggiornamento, eh Sì È traslato Ok, non ti vediamo ancora, aspetta Se tu ci vedi, mandaci lì in via Però non dovremmo ancora Che minucci stavo con le canne, eh? Oh, canne, è traslato da un In via Perfù Ma non lo so, non lo vedo, non lo vedo nella vita Ma ci ho fatto, non mi ha partito qui, ma molto tempo fa, molto tempo fa Quindi ti sto invitando, non accetti, volentamente non ti arrivi ancora Stai una live? Eh Perfù Sì, sì Sti ragazzi, capito? Oggi le ragazze parlavano, le rinviate, le rinviate, le rinviate Cioè, io, mi faccio parlare a me, mi piacere Voglio parlare proprio più, stupo Se parlavi di mille euro Mille euro ci parlo sulla scheda grafica Voglio Mi piacere Lasciamo perdere Lasciamo perdere Eh, a te Eh, a te E, a te A me, a te Sì A me Ga lukas 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 ragazzi quando facciamo quando accucciamo un computer parlavamo oggi così sul gruppo ma no computer no anche perché io lo uso solo per giocare quindi sarebbe strunzato quando è diventato è un lusso costoso anche perché non so nemmeno pro player non faccio nemmeno soldi questa cosa giochiamo per divertirci il momento tu fai altre cose per lavoro e diverse capisci bravo pensi che io il pc dovresti farmi vedere pure come si usa quindi vabbè si lo so accendere lo so prendere so fare queste cose basilari ma tu pensa che questo qua sarà felio per te simone questo qua l'abbiamo creato la seda pezzo 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 eh si oggi già me lo stavi dicendo ma immagino qualche volta i privati mi mandi qualche foto del dell'apparecchiatura di non hai capito poco come è una bomba immagino oggi giusto per capire immagino filo filetto vendono e immagino queste cose qua immagino allora noi con i mesi parangati niente 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 e ti ripete tutti che live in un all'inizio 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 si parangano con il parametro mi si si dice eh bravo eh si si dice hai cantato l'hai cantato no ma non è che è la questione di risparmio è una questione che c'è che il rem che può ecco fai fatto questo non fai quello ecco fai fatto questo non fai quello e non si è capito niente perdona la perdona la mia domanda a fondo mo tu hai investito in questo pc quanto ti dura questo investimento in parole povere in che senso il tuo prodotto fino a quando rimane competitivo ma secondo me tre quattro anni qualcosa ce la fa ancora ok tre anni sicuramente bravo quindi un investimento del genere va sempre intorno a questo tempo qua quindi alla fine si va attenzione perché lui ha preso ha preso già quelli che erano top di gamma eh si immagino dico c'è tre quattro anni che sta a posto eh capisco capisco però attenzione può sta a posto fuori dici anni adesso fai il buono non vai in continuo aggiornamento queste cose come funzionano ragazzi però io sono partito come diceva raffaele sento che sono partito con tutti i pezzi top di campo giustamente essendo top di campo quando ha già fatto io ho la possibilità di aumentare ancora il processore ancora la ram ancora la scheda video capito? ok quindi puoi aggiornare l'upgrade bravo ci posso girare intorno capito? ok ok quindi il prodotto che ha non è un prodotto che prima o poi butti capisci quello io l'unica cosa che mi è rimasto mi è rimasto un po' diciamo sai c'è rimasto un po' che avrei voluto fare di più era solo il case e basta ci siamo messi a vendere quindi ho migliorato tantissimo inviando raffreddamento immagino? no il case sarebbe la scatola esterna e cos'è? la scatola esterna ah ok quindi è solo figura quella? no è una questione di estetica è una questione di estetica perfetto ho capito ho capito ho capito ho capito è sparagnato la scatola eh vabbè la può la si avrebbe pure sparagnato eh ma fino a un certo punto però sai che cos'è? cominciata a 10 fino a 10 ma sai che cos'è però? sai che cos'è il problema? che tu mettendo questo materiale in un case più performante hai più spazio hai più ventilezzo posso fare una pelle che è più ferrato di me nell'argomento tiene più possibilità di riciclo dell'aria è tutto un giro di cose capito? ah ok quindi prima o poi è una cosa che farai sicuramente eh sì mi rompo solo le palle di disassemblare tutto a farlo capito? hai spunto altro cosa scusa ma immagino immagino e poi non ti dico dopo 2-3 giorni il primo harddisk eh ti ricordo la fe il primo harddisk che è messo va con una pressa un gioco non parte come un gioco non parte due giorni già lui va a capire l'harddisk nuovo scassato bruciato sa bruciare cioè immagina piglia l'harddisk ma non è una volta in rete quasi quasi cioè tu spiega una pochina ma niente non c'è tutto sei per il po' non lo so per il po' eh sei per il po' ma noi io l'ho incontrato giù per strada che abitiamo vicino eh ma ci sei pure per scala con lo cane per scala con lo cane ma noi ah lo sa teco eh oggi abbiamo giocato insieme ma forse veramente ha solo risposto ha solo risposto ha solo risposto ma ci sono si chiamava Aramis ma sono grippato che era Aramec nooo e poi poi pensandoci bene perché lì si chiama Aramec ma all'inizio ma come sono grippato che era Aramec ma no ma ci si chiamava la parte ah fai tutto che ha ah che faccio ritorno battle royale ma ritorno fai un ritorno che non fai però rinascita mini royale dai no a me non piace la rinascita io nemmeno il mini royale sinceramente boom mi sa piacere tu a me mi piace solo che la classica battle royale che quando vinco la non lo so ma è nata è nata emozione che l'ha la è normale è nata emozione altre emozione altre emozione a cavo al rabbit due o tre partite al giorno si riescono a vincere si io che ho cominciato dopo e nella venda ci sono dei dei giorni che mi hanno venduto un po' e mi ha fatto prima e mi ha fatto in un secondo posto prima sta a 234 stai voglio però lo tag lo putissimo metto voglio almeno lo tag si come si fa volentieri figurate è in da caserma esco esci 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 usata è tornata indietro ma che nessuno fa il aggiornamento del BIOS eh che non so per Gianluca nessuno si mette la è tornata in una rete ahah Gianluca non finisci qua che tu hai scattato la schietta madre che sa che là inizialmente io avevo mille problemi e andavo a sgamare anzi la fe lo sgamava che aveva asciuto l'aggiornamento del BIOS hai capito? io mi hai raccontato un attimo non so se mi avete detto qualcosa allora ti stavo dicendo mica finisce qua il discorso di acquistare il pc appena ho messo insieme il mio pc all'inizio ci stavano tante cose che non funzionavano ci mettemmo con caldo ci mettemmo con caldo chi chiedere non fa tanti aggiornamenti eh ma io mi hai fatto eh Raffaele però io ti ripeto ora comprerò la mia pc cibo comprerò delle buone cuffie con un buon controllo che posso personalizzare al mio piacimento basta lo schermo già lo tengo ma hai visto il joypad che tenghi? io perciò non passo a tastiera a mouse perché mi caglio il cuore perché mi caglio il cuore capisci? eh guarda l'unica vabbè ovviamente se tu passassi a a mouse e tastiera ne guadagneresti su andate in gas andate alla zona scura con la stabilità quando miri e su tante cose lo so però ti ripeto però pura me un gioco così deve essere fatto con controller io non lo faccio secondo me a me piace proprio il come cosa potrei fare ad soworodica aii non lo so ho capito dove sei perciò lascio delle corazze qua nella casetta di coraggio a cui lasciato azz'atterrata le prendete e niente stanno accendendo però è qualsiaspettare facciamo qualcosa chiari e lo so poi voglio eccolo qua ma che cazzo uccidimi ah tu bastardo oh a bazooka coprimi bazooka criminale che figli di puttana con il bazooka ah anche l'ho fatta arrestarmi ci sta Rambo sopra e mi stava sparando con il lanciagranate che figli di puttana che figli di puttana allora voglio fare specche cose non mi accidano vabbè ovvio eccoli ah lo sapevo già camera ti buttano davanti ma è sempre il solito pocone questi suoi anche chi si sa ma qualsiasi avrò io voglio le mie ma fai attacchi le giovani ci sono i bravi fatturarsi subito ma è grande ma è vero come ha già fatto io non so se siete visto ha già visto ha già visto ha già fatto un bacio ha già fatto un scello ma è venuto il cabbash è pure l'arma l'ora ma c'è un'arma gas in avvicinamento è un po' che va e compagnami è pure chi ne colate scema che si è meno discesa soldato nemico non puoi dire sicuramente si si corto corto raffaello uno da dietro e rambo davanti sta in coppia sta in coppia sta in coppia si sopra da sopra finestra eh lo so l'ultimo piano sopra è già mia posizione è la zona sicura si 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 e sa veni pure kille che si accade prima tui eh lo so l'ultimo piano sopra un rambo chi è eh sta venendo a piedi da bacio a tutti ah bel colpo e l'hanno cercato ah che ha fatto la fai eh eh e la fai e chi c'è oh sta la rambo sta la rambo ullano rambo ullano ullano sta capistola occhio a dove spari io mi sono fatto a star ma chi c'è ma lo sei a miso mi hanno colpito ma fai no 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 la corsa andrà da me raggiungi l'area a bersaglio sta bene io non ho lancio d'equipaggiamento alleato in arrivo io non ho caggivissime sparare io ora c'è che casino caggassi in movimento nuova zona sicura individuata non ci sta più ora io usci eh non penso eh oh canne ma cazzo non sei ma sotto cosa siamo sempre stu baggi ullano muocca mamma guarda dove caggassi in marzo hai detto sto cosi sto figlio puttana hai scelto l'uomo ehi ti accortare ti accortare ti accortare non ti accortare non ti accortare non ti accortare un nemico in volo io mi faccio il lancio ci facciamo no ci facciamo i soldi sono andati ci sono andati quattro specie torniamo al lago cosa ci sono andati adesso ci sono andati ma se stiamo vicino non mi hanno fatto cosa poveri il shop sta qua ma se vada cosa i soldi e mi arriva a 7000 oh ma ce la facimmo a 7000 ah che c'è 7500 quant'è c'è lui lo ha meso c'è lui i 7000 e cinque eh c'è lui lo ha meso eh allora ti tu c'è chi è te ho fallito e c'è una fama è ruota a post arriva il gas ci va a presto è un po' eh dai a casa russa eh c'è gente è là voglio me servono i soldi però ah boi cazzo e cazzo contatto visivo c'è del denaro ah no cazzo è il misero ma guarda che porta che porta l'occhio ci sparoni ok a casa russa eh a casa russa eh a casa russa e cazzo stanno proprio fai tanna ma è meglio proprio stanno male lancio equipaggiamento alleato in arrivo eh devo andare a buttare l'ondanaggio già non c'è allora ma io posizioni non ce ne abbiamo eh vabbè come è solo ma può caricare no 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 uomo uomo di qua uomo di qua fanno soldi e cazzo non 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 cazzo no cazzo io cazzo non cazzo non cazzo non cazzo Mi assendo un secondino. Poi ci mangiare un messaggio Paola. Che cosa è che finirai? Eh Paola non c'è più che cosa io sono scontato. E allora quando arriva il momento che ci siamo incontrati, controllate l'equipaggiamento gli aerei si stanno preparando allo schieramento di nuovo io sono venuto, non lo so se mi stavate a dire qualcosa a me no no no, stai parlando con la Femme che io ho messo un messaggio a Paoletta poi fai ma che ho finito i fatti eh! città! guarda tra se tu vuoi me ne giurciò eh Paoletta, Paoletta rimane sempre con me parecchio, tu vabbè il massimo che faccio sono le tre wow, come le sparate di via di qua? ma che cosa?! ma che cosa va?! ma perchè! no! che cosa va?! la bomba! la bomba! la bomba! la bomba! se la bomba è vera... Soldato nemico in arrivo! Sì, c***o è solo! Eh, non lo vabbè! Sì, c***o la fascia! Ma vado a costa, amico! Che tenebietto tricchi i tracchi un po' a mano, si capisce lì? Quanto è roba? Poi scendere, manca la posizione! Poi scendere in luoghi! Ma anche il play! Stai il mondo! Stai il mondo! Ma io mi sembra lì! Mi sembra lì! Sì, sembra lì! Siamo lì, Murillo! Sì, c***o la parte! Indico la zona per taglio! Faccio visto! Ostile in discesa nella... L'obiettivo principale... Oh! 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 Ma ci sonoTe cheorgom Ąink torch! Ho già scubato un po' c'è chi f Costa disse anime! Oh! Anche alleato il Sorbolo! Avvio scansione radar! a me aiuta che qui si scusa a me sta correndo a me 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 oi venite qui qui c'è un bersaglio oh a me a me a me a me No, c'è un pochino, c'è un pochino Ah, mi sono divertito, guarda, mi sono divertito Sto subendo il foco, nemico Ti manca lui Nemico in discesa, guarda, guarda Sto a me, stiamo a fare E' un pochino, scusami E' un pochino, tutto è due, non mi preoccupa Eh, lo so, si scelgo No, mi sono divertito, però, bella Dove c'è una pacca sulla spalla C'è un peggio di me, c'è Eh, mi sa Questo sciagallino Sai chi? Marco, una mitragliatrice, prendete quella mitraglietta Eh, ma il sciagallo ha giussato Ma vieni, scusami Vai giù, vai giù No, vai giù, scusami Mamma mia, come sembra Gassi in avvicinamento Ha visto quasi skin a fuori Ma state sopra Ti sembra il secondo piano Ah, fa, lo vado Secondo piano Secondo piano Emo a terra Sul tetto Uno me l'hai fatta che la pistola Non sono molto svegli No, i due me l'hai fatta che la pistola Paffa, ora dove mi spalla L'ho, ora dove mi spalla L'ho, ora dove fuori Ma, va bene, già Faccio della scanna Va dentro Fatto Eh, io ve li diamo un gol Non so se... Oh, ti rischi le spalle Oh, l'attrazione Ah, dove è morto? Mi hanno portato Ah, lo staffo S'angava a me S'angava a me Mi spavano il coach Una dc Morto Ora dc Ora dc Sì, sì Chidate il giocci Si, si abbassi Sto nato, guardo E' spesso bra Un agio fatticato Ventiquattro nemici rimasti Falli fuori tutti un lancio di equipaggiamento in arrivo obiettivi aggiornati passare alla ora allora aspetta 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 dove coordinate in arrivo guarda bene guarda bene aspetta tutto a posto ok io fanno troppo tu aiuto come sei troppo i gialli eccolo avevi vabbè vanno 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 sono l'unico vanno 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 No, non vengono qua! Tiene 39 munizioni, fuori regolo! Tieni a mano che sto scendendo! Sì, sto scendendo! Pompani! Attacco al grappolo nemico! No, a cazzo no! Sto con la pistola! Che c'è fa? Se devo vicino! Così no! Sto con la pistola! Sto con la pistola! Sto con la pistola! Sto con la pistola! No, ma tu puoi anche scendere qua! Basta che mantieni la mano! Eh, magari ci ritroviamo in una parte e siamo tutti quanti! Eh, perciò dici! Sto con la pistola! 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 Contratto completato! Tutte le casse di scorte trovate! Enico in movimento! Avete del gas in arrivo! Sto con la pistola! Sto con la pistola! Ah, posso uno mi sparare in dalla finestra? Già vissi! Ci si abbassa! Un coppio di un'erisci! Ostile in vista! Stanno lanciare! Stanno lanciare giallo! Già vissi! Ma faccio tutto questo! Il traso di rendi! Ah, lo stacchierà la sei! Ma non stanno sti scemi! Sto con la sacca! Mi sento un buio! Gio, gio, gio! Ah, ho il cane! Sto con la RPG! Sto con la RPG! Chi sto voglio? Maronna! Mi sto con la RPG! Guarda! Che giù che ti ha! Sto con un numero uno! Buon nemico! Qui! Ah! Magrino! Ma tu mi ria! Azziamo tutti! A nascere da una patata! Già lo stanno andando da a corso! Stanno due gas! Stanno due gas! per avere piccino è uno dei 25 rimasti mi ha fatto che conosceva la mia scena è una bella già battiamo la mia scena l'aria avvisse nelle giocattole si va a bussa luscia Comunque stavolta cerchiamo di scendere uniti dai... Ecco a me ne feci, non mi fai niente, pochino? Ce la giochiamo a partire, ce la giochiamo è vero Prima Raffaello si stava ad essarne e lo stavano facendo, se vieni vicino di uscire a torrere, ma non ce la faccio La stessa cosa mi è detto che se non ci fosse Raffaello che avrà candidate da fine adesso l'avevo acceso appunto perciò mi fassi questi giugati e qua ti facemmo che si faccio divertirsi comunque la prima cosa mi riuscite a fare questi soldi e poi ci prendiamo lo d'auto una volta preso quello si a cominciamo a raggiungere ci prendiamo via e ci facciamo kill ci prendiamo la posizione di vantaggio no ma la kill non è che noi stiamo proprio andare a zero che non facciamo niente lo facciamo però per dimmi perché gli altri giocano c***o e c***o e noi no è normale ci sono strategie ah boh questo è il nostro forte non mi ho mai tenuto la comunicazione è un problema da sempre questo qua che noi abbiamo manco con lo citofono fate un po' di pratica finché potete presto ci muoveremo sto là hai guarda da parte tu scuola nord che mi scende da sempre soldato nemico in arrivo sto subendo colpa colpino sparano andato ostile in discesa nella ok può bastare adesso combatteremo per davvero bocca pensi che bene senti si sono qua da stamo dai raccai pro mpc si marmi invece che per esempio io anche se vaga per merdi scendolo adesso no io causi xm4 e buffrogo xm4 all'inizio ma piglio ricerchino pure ho detto xm4 il fuzile mio preferito un fuzile è il mio preferito stiamo soli Siamo subito in gas FASHION NEN, FASHION NEN U NEMICO IN DISCESA NELL'AREA OPPO DERSEGLI IN DISCUSI ALTAMONI A POSTO Che sta sta coccoronato, c'è lui A dove? Oh, non lo vuoi Come lo so, chi si? Che so, ci voglio mettere il sandra solo CAUSATO UN TORCH CAUSATO UN TORCH CAUSATO UN TORCH CHI SIERE CAUSATO E TU SIU Andiamo, lo sei batuso CAUSATO CAUSATO UN TORCH BULLO CON A EY GUARDA DOVE SPARI CAUSATO E' lo vedi che c'è Ah, non sai tu, Gianluca Eh, adesso che abbandonci Ostile in discesa nell'aria Osser, in discesa nell'aria Se lo cambierò, tu hai visto? Mi sposto Se lo cambierò, tu hai visto? Ah, però a me va fatto, mi sa abbandonci E gli ho mai che è riuscito prima che era giustificato prima Prima mi sa fatto proprio Rugarlo, lo ha trovato rugarlo e mi sa fatto Eh, che chiediamo Mi siete battuti bene Tornate alla base e fate rapporti Ui, faccio le cazze Ho fatto proprio i guai In pratica E lui ci fu da chilo bassi Figlio di una buona madre A me si si collega pure 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 Vinta Noi facciamo Gioca di nuovo senza controllare Sì, c'è ancora uno Non lo sapete Eh beh Io non vado Sì, c'è ancora uno Allora, io ho una persona che Ma ora provo a invitarla Forse si sta giocando a verda Che è successo? Come buttare fuori? In quanto riguarda In quanto riguarda il piatto In quanto riguarda il? Non lo saperebbe oh con chi stai? ma non mi fa... sto su lì ma non mi fa traslito aspetta non lo so che sta succedendo non lo so che sta succedendo sta pure zero fail insieme a buco ah si sta con me ora ho trovato questo oh 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 sta venendo pure per poi ok ma poi da qua no aspetta pure qui ma quando ne siamo? 5 a 4 no? siamo a 5 no? noi siamo a qua eh boh aspettammo pure questo poi ci organizzammo ci fattano pure un fattato ah va bene ok ok buonasera 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 niente preoccupa ci apparamo ci apparamo non ti preoccupa partimmo ora ah vuoi aspettare questo vuoi aspettare qui? è già sta proprio è già sta proprio e qua metto lo taggia vai metto lo taggia eh vai allora vai allora caserma eh ma ferma eh poi ho tag, clan e reggimento bravo e poi personalizza tag, clan eh poi personalizza tag, clan eh ok eh e sa già scrivere eh c'è scrivere in defa troppo basso no ma si è da scrivere eh no va te no ferma lo deve scrivere ah perché ci stanno registrando il reggimento cap'è pure gli agi scritto hai già avuto a scrivere ma buona che ha già scritto allora tratto basso eh vai vai KST lettera grande e il punto e poi metti il punto sempre trattino basso no punto 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 quindi trattino basso KST punto esatto eh eh oh Andre nessuno parlavano fattele bunga e reggata insomma ti ricordo Andre e poi a voi ci metto tag pure a peppone ma ci mi fanno oggi pure a peppone ma fu maloppi ma fu no 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 buonasera 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 quasi trova smata per zoni usata per zoni ma Paoletto Bordeaux quanto è loro su? eh non lo so a me ancora non mi sono uscita la gente online allora secondo me allora io vedo online Bordeaux Paoletto Travis Scott eh sono qua sono tre sicuramente ma Travis si gioca a Re eh sì stanno gioca tutto a Re Re si Bordeaux e loro sono tre e hanno parato se venissero pure loro ma non mi sono aspetto eh ma non c'è messaggio ah ricercere si M5 eh Paoletto si M5 e noi si è venito pure tu eh tu stiamo in anno 2 Andrea e Travis si si ok ma io andammo riusci i 14 17 e noi no noi andammo otte due e facciamo due squadre e la vai giù ma aspettiamo che bambai che bambai se sei tutti i due poi giù nel frattempo mi faccio una fumata eh vai vai ah bello mi faccio pure qui ehm eh poi giù allora mi faccio la fumata guarda per poi per poi per poi te lo fanno i tatuaggi per poi bello tatuaggio ma ci fatti stasini se te lo vuoi fare anche tu ah ma tu hai detto tu a fatti ck t lo che è stato eh beh po ma dici ma dici teclo c'è eh che chiesto abc ht log abc ht no abc ht no 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 ma ma non mai aver invitato perché siano fatte l'automatura una vita massima di blocca sì sì sono ancora bloccati e quindi tu volevi entrare no giusto volevi entrare in questo reggimento manuale non lo metto ma come non lo hai ma non stai sbagliando ma stai sbagliando è semplice e guardi semplice va sul caserma molto semplice ci sono riusciti pensavo come si chiama no vai sul caserma e come si chiama ma che cosa come si chiama tag clan e riuscire come si chiama e come si chiama già fatto già lo so come si chiama non scrive ktt stramurta no testo vi data a causa di contenuti volugari ma come kst di essere volgare non essere volgare per poi non essere volgato e poi mi conosci a giorgio chi è giorgio e san giorgio eeeh 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 aspetta 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 devi mettere tratto basso kst eeeh 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 全 ee vai eeeh ma ma judging c eero e e buck e mad e ...di contenuti volgari. Eh vabbè, eh... Cosa dici? Erroro, adesso vi date a caso i contenuti volgari... No, ma ti credi? Figuro, eh... ...mi te credi? Eh vabbè, vabbè, vabbè... Oh, già manda la fotografia! No, vabbè, vabbè... ...ma ti credi? Figuro... Eh vabbè, allora vabbè... ...mi hai cancellato quelle che tenivo prima... ...e non lo so, vabbè... Vabbè, è già l'amorità, eh... ...te piace... ...eppure si è messita a parte... ...poi te lo facciamo la filazione... che bomba che bomba è massato tutti quanti nella lobby per partita accessibile 6 che tra i biscotti che pochi addirittura a bordeaux mi ricicuro che è accessibile invitateli voi perché non sa che andate capito non voglio venire in mente sono a fare una sgaretta la buona c'è fuori proprio di muovare la tua strada che qua stasera cosa non devo rivolgarvi giugno ci sono i miei 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 eh Paoletto ma tu sei solo e sei un bambino eh Paoletto ma tu sei solo e sei un bambino eh Paoletto ma tu sei solo e sei un bambino siamo a quattro come stai? siamo a quattro Paoletto siamo in dalla lobby di Alfonso qui siete tre e noi guardiamo tutto siamo a quattro noi guardiamo tutto e poi siamo io, Alfonso, Girafele per poi è andato a fare loro e zi Andrei eh si ma siamo tutti noi con tutti i bambini tutti i bambini in pratica se vi aggiungete a noi facciamo due squadre da quattro però ci siete quattro e voi voglio che ci abbia un accendimento ma lo pariamo ma stasera si ma sarebbe più facile che Paoletto e se sei un attimo qua o no? ah questo è già questo è qua ok ok questo è già una 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 è una mica per poco, fallo trasigli ah ok, si potrà si gesti per poco la situazione noi accettiamo tutto ma è una squadra anomala è una squadra anomala, anonima, facciamo tutto, non so che problemi questo è bind o to basta che non c'è chi cerca il soldo un po', un po' bene, si è uscito proprio Gianluca ma mi è rimasto buono per poi raggiungo a fumare la sigaretta, non lo faccio su Gianluca no, Gianluca è un buon patrullo non lo sai, ci fanno cose ma voglio, io sono solo a trovare l'accento oh, oh, ma che fumare la sigaretta oh, Gianluca che sembra oh, Gianluca che sembra oh, Gianluca che stai oh, 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 oh oh, 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 oh eh, ma squadra anomala ha raggiunto ma squadra anomala ma squadra anomala ma squadra anomala mi piacere e fai la sigaretta che fai e no, che c'è che fu tu fai la sigaretta che tragico, capito? no, ma fai chi è? non mi stanno a chiamare, aspetto no, per poi, no, non ci puoi non nessuno no, non mi dice che mamma va aspetta un po' insomma, c'è 40 minuti dalla lobby ma risposta no, eh, dopo qui, dai ci stiamo a pensare che c'è con la tetra, eh, no eh, no, vedi chissi che non so chissi non so eh, chissi non so allora, Raffae, ora eschi e... ma scioglia ciao, voglio se non c'è la cittura allora c'è l'allocco ci facciamo un po' di mattidi e Peppone appena rimanete in due athan Grazie ragazzi ciao un abbraccia ciao, ciao ragazzi Aspetta, ma voi fai scelta veramente? Oh, due beh ha fatto posto, due beh ha fatto scherz! Ehi, i tigli sono qua, e io lo manco con due, hai capito che ho qua? Ehi, che vuoi dire? C'hai vinto, voglio stare qua a te startate! C'hai vinto, sei sì, babbo niente! Oh, c'hai vinto, c'hai vinto! C'hai vinto, c'hai vinto! Eh, non fa male, non fa male, vabbè, non fa male! Ti ha so giocato, ti ha so giocato! Ehi, c'hai vinto, voglio stare qua a te, vabbè! Eh, sì sì! Se ne è giù, cosa che ci volessi? Se ne è giù! Eh, aspetta! Vuoi che ci volessi? Aspetta, non lo mani in me place! Ciao, vai giù! Vai giù, ciao! Ciao, 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 ciao! Allora, vai giù, vai, veloce! Ehi, lì, lì, lì! Ehi, lì, 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 lì! Ehi, lì, 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 lì! Mi supera, catch up! Ancchi! Ehi, lì, 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 lì! Ehi, lì, lì! Ma, ci fa vetta! Ehi, lì, lì! Che abbi te! Che abbi d'ex, che abbi d'ex! ah di subito facciamo andare a rubare i ventoli ora mettete un ghiaccio a fianco ora ti faranno pescare il ghiaccio fate un po' di pratica finché potete presto ci muoveremo è ancora a Dambucà la situazione non c'è ostile in discesa nell'area occhio in alto è un po' di cuocchiare come faccio? è un po' di cuocchiare no come cazzo? pesa uno ma non so che cosa si fa non c'è nessuno granata lanciata scesa nell'area occhio in alto il divertimento è finito si va nella zona di guerra ma se quando viene da rpg che ti botta eh si ma questo con rpg ma lo schifo ma da sempre andrea andrea hai visto che mi ha bloccato pure a me la schiena hai visto? è questo stai a guardare bello e buono eh eh sì sì non so che c'è non c'è non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno beh no che poi è bello perché questa qua dovevi fare la seconda serie per tenere questa qua io non l'ho mai fatta io ho sempre per ghost ma speranza che mi non c'è non c'è nessuno vedi 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 e ide a schiena non c'è nessuno non c'è nessuno vedi 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 la città se si vede più vedi la città svedi vedi la città si vede non so che adesso vedi 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 Sto da sotto Ok Vieni a casa, vieni a sotto Vieni a casa, vieni a casa Un team nemico vi sta braccando, occhi aperti Poi vieni Il soldo come stava facendo un lancio? Sì Vieni a casa Diamoci da fare Sei otto su lui Ma chi sta a cazzo? Ah cazzo, cazzo ci sta a cazzo Chi ha il mail da ferma? Chi ti va? Ok, andiamo a cercare qua Vai a cercare qua C'è il nemico in volo C'è il pergo, hai capito? Guarda cazzo Posizione marcata Ma cazzo sta a cazzo? Stazione di acquisto marcata Cazzo può fare che vanno su C'è la luce qua A cazzo ancora da roba Comunque sto chiedendo un lancio Sto chiedendo un shop WAPI nemico in volo Sono caricato Non cazzo Sto chiedendo un'altra Io parlo da granare Se potessi anche vedere se potessi vedere la luce No, non cazzo Ho avvistato per denaro Non lo avvisto Lancio di equipaggiamento alleato in arrivo Bersaglio taglia eliminato ben fatto ottimo Giorgio 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 non ho capito ma fondamentalmente questa canzone chi ha fatto? eh si pensi si Cosa? io posso migliorarlo qui intengo 4 e 3 potete non avviare ne restano 25 continua così che pazzo piglia niente qua ti tengo una cassa di coraggio eh il nemico ha perso le vostre trecce siete al sicuro prima a cominciare vabbì si 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 vai va avvio scansione radar guarda guarda non ho capito guarda che c'è la coraggio eh ma era prima la una ora prima la una ecco andai la coraggio è qui bersaglio taglia disponibile diamoci da fare qua giù guarda che c'è la coraggio eh guarda non ho capito lancio d'equipaggiamento alleato in arrivo stagione guarda che c'è il primo in arrivo alla nuova zona sicura bufro che qualcuno serve prendete quella metà io giuviare già ho i 15 metri da me vado Paolo ci stanno guidando Paolo Oh un panne Ok Oh un altro canto a me Ma la russa è un po' No Penso un po' a te Sì Ok È un fantasma chiesto Nemico in discesa nell'area operativa Stai qua il canne La buttata qua Stai qua Stai qua il fantasma chiesto Non vedi che c'è Non vedi che c'è Nemico in discesa nell'area operativa Tempo scaduto Obiettivo fallito Stai qua Non c'è Non c'è Fatale ma l'ho ci fatto Bersaglio taglia identificato Fuoco su quel bastardo Paolo Mi sta anfitando Ah pure a me Siamo tutti nella zona sicura Ma io Ehm Che mai fa? Sono proprio l'unità Mi fanno fatto Lo sapevo E' qua Ma troppo Ma non c'è 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 C'è Ma non c'è Mi ficca Ma non c'è Ma non c'è Mi fanno Senza Non c'è Nemico Di fronte Un occhio Mi senti Abbiamo messo Nel occhio Lumico in volo Ubi Tempo uno Gassi in arrivo Spostamento della zona sicura Ho trovato una corazza saldi in corso prezzi delle stazioni di acquisto ritoccati nemico in discesa all'area operativa sto senza armi guarda la pistola chi li mette i sledding di un marco mi sposto ma non sei un'altra non sei da buco non sei da buco tenuto un'altra uno a terra un raggio va giù una da questa oh ma giù non c'è chi ma mi ha attaccato pure un pezzo stupi vai rimettarla mi ha attaccato mi ha attaccato mi ha attaccato mi ha attaccato ma non ci faccio a parte però ah si sta buono come sta sta buono come sta no stoner vai giù stoner ottimo stoner proponik stoner un attimo un attimo stoner prestito nel eccole stantonists dobbiamo arrivare alla zona sicura fermate in movimento cia sorrallara heroic Heather e hi 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 si attacco al grappolo nemico al riparo ad auto attacco al grappolo hai messo la solista? no aspetta bisogna messaggi no sta con tre biscotti in arrivo zona sicura riposizionata calma non sta con te ci sono quelle che hai vedete la città non è 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 la città che vado allo shop per un attimo un UAV UaV alleato in sorbolo avvio scansione radar non c'è munizio, non c'è fuori, ora fai scendere gas in arrivo gas in arrivo gas in arrivo 7000 gas in arrivo nuove coordinate in arrivo in questo punto 48 metri di fronte provare a stato U mi muovo di qua a chi serve quella zona lasciamo stare nuove coordinate in arrivo ne restano solo 10 gas in movimento nuova zona sicura individuata a tempo 1 aro gas in arrivo la zona sicura è lontana muoversi ma ragazzi stai andando messa già a paolo nulla non è no vado a giudicare no vado a giudicare no vado a giudicare non mi raccomando terra uno è giudicato a terra no eh sono lungo assimo però è restato è restato sono messa già a paoletti ma comunque ragazzi ho arrivato che restavano meno di 5 voglio abbandonare un attimo ci stanno chiamando ma pareggeremo i conti abbandonare un attimo 3 digli di entrare qua che facciamo forse tenete a te il loro aspettato ok in privato lo fa l'otra è pure pure facendo la stessa cosa ebbè 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 poi gioi a tracicurare un bar ebbè ci stiamo parlando perché stiamo quasi a parlando un numero quasi su loro ok ok io l'ho già fatta di quattro minuti ma tu riesci a fare tigre di santo con? assassino mamma mia che è diventata una cosa internazionale che è l'hawaii, la tigre della malesia ma che non si capisce? ma che è successo? ma io voglio che ti ha capito di quel lunatico io ho un lunatico una partita molto veloce voglio un momento non mi chiamano mai di voi due amico tu voglio chiamare a tutti qua ma io sono pochissimi dimmi lo fa allora, a spazio e per te scusi scusi ma non mi chiamare cosa stai? eeeh Raffaele tra siete tu e Andrea sono qui che sto invitando tra siete WE TaiU da quass Governi vogliamo organizzare un giorno una sera è bravi però vediamo.. organizzarlo rebza noi ciao subito domenica domenica prima infatti la pubblicità con le cinghle non lo faccio non lo faccio voglio un attimo di attenzione voglio un attimo di attenzione voglio un attenzione a seconda io vi faccio questa io posso fare una cosa io parlo con Barbaradus che sta vero tutto qua Barbaradus che fai vole, vole un momento a Raffaella e a Andrea Bambetroi va perchè io son vi danno ah ok Raffaella Raffaella non vengo ma zi Raffaella ah no ma chi c'è ma anche perciù insieme ma che sta bello eh eh facendo chiamare eh brava brava fa telefonato Brasile ti chiamo pure Brasile Bambetroi sta facendo torne ma c'è la cocco in Brasile non c'è il nuovo tuo tag è il nuovo tuo tag RTA chi è eh Alex si ha letto la giugia invitata non sa c'è 3 ti sa c'è ah Alex invita alessi invita alessi non c'è invita voglio aspettare voglio aspettare fammi risposta il ruolo oh ma c'è chi vuoi non c'è ma le reti a 3 ma ti invita pure eh sì sì si invita invita ma si 3 ma si 3 3 che va bene eh buon metro va bene vabbè ma perché già sta qua già sta qua va 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 ahahahah ahahahahah ti devi dire nulla poi c'è il tuo tempo che stanno parlando l'anale ho bisogno qua ma non vedremo la mano più pò noi torniamo una certa età saremo nella catetra ci rimane anche nel catetra siamo a prendere andisocial adesso mi invita pure a chi eh insomma devo fare 10 eh il balone quello è buono vicino a te passami 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 ok ok k a i Alsi F o pensi ma ən stiamo nella paramedica qui è cadrazza Già ess, già ess, ho non poto che venni Eeeehhh, coro... S'u SEMBUR Spagio... Quando ne si mi ha... Unis ma, ma com'è Unis? Spagio voglio mosso, moderavo a quattro Csussu la gorgăng, organizza Olololu, Mircio, Mircio 12 vai ma affontati c'è una cosa sei tu che sei un streamer e non hai fan che ne entrano nella nottita con te i tuoi fan innanzitutto non ho capito chi ha parlato sono sempre io i tuoi fan chi chi io chi io chi tre scott tre scott se vuoi 3 biscotti 3 biscotti e un po' ne vici e tarollo tarollo ci sta non so via tarollo no no poi io sto facendo allora ragazzi sto invitando attraverso facebook si maratoti e si maratoti e ma fa una cosa date pure delle disfattate città diciamo che non portano per la te ci divertiamo non 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 dicevo restammo gratis restammo gratis dopo a marchetta poltis direi mettiamo al mercato casoria vado a casa del mercato voglio io ammazzare qualsiasi coppa barbicol eh il classico sei cagliore a quale sei cagliore? ci metto un numero a me che ne è? non si fa 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 come fotografi? chiamami e ti farò fare una notte in gioco non si fa non si fa chiamami e ti farò fare una notte in gioco bella tanto sangue ti resterò gratis una tipa brava nel restaggio una tipa brava nel restaggio e nella uccisione a distanza prova questa esperienza ovvio ho frequentato uc ma chi è il tazza carafrica carcciano ma c'è un po' poi giochiamo a fare aspetta n'ai aspetta n'ai aspetta n'ai aspetta n'ai aspetta n'ai a mezzanotte a mezzanotte tu mattina a mezzanotte sai che io ti penso a mezzanotte no a mezzanotte c'è un giornale veramente no a mezzanotte c'è un giornale eh c'è un mattino allora siamo vediamo la prima prima che abbiamo messo a tre vado due squadre da 4 a 1 da 3 escono tre persone e fanno una squadra allora super liberi si esce ah 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 anche perchè io credo che ne faccio una se lo vado a domenica giù e lo voglio agli lasciato colore no ah ah salve buonasera a tutti allora chi è rimasto? ah fino a steven steven come stiamo? eh come lo stiamo prima ho usato due euro per capicarmi sempre il stesso mi hanno fatto spiegare due gettune senza niente allora chi c'è questa paletta? uno due tre quattro adesso quattro è loro voglio separare io che io? io che io? ma io ne faccio uno al massimo eh quale era il ritorno quartetti giusto? era il ritorno quartetti che stavamo facendo? sì 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 allora eh poi il bitto mi stanno invitando spirit mannaccia mi sei com'è che vuoi? oh ma mi sei malabbiato ma vado a dormire vado a fare oh oh palè oh ho fatto adesso si alzze la ferna eh non mi stiamo lasciando sia CHIMPITATO CHIMPITATO non c'è facile a cucciola a là a là ci hanno fatto la squadra eh chi l'ha fatto il buccio? salve salve vai palè sta veloce veloce vado fa partire vai ritorno 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 eh ritorno è l'andata fa quella che vuoi tu ma io ma senti due bordelli si parla no allora a volte esci a tratti Paolo ma secondo me è la soglia che devi decolare secondo me è la soglia la prossima volta è la soglia la oh Paolo ma tu si costumisci a uno no ma non me ma esco buono esco buono esco buono esco buono fare sì ma esco buono esco buono ma ora tu mi c'è un'aria piccola eeeh hai piccola una po' mi c'è quando sono andato a tv ma poi mi fa pensare ma poi fate un po' di pratica finchè potete presto ci muoveremo comunque 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 e comunque aggpist aggpist una situazione una situazione che ora mi sono accorto mhm praticamente praticamente mettendo mettendo come si chiama a moltiplicatore sensibilità miglino e moltiplicatore sensibilità miglino miglino col zoom elevato e zoom ridotto a sensibilità bravo ok può battare adesso combatteremo per davvero a zaga 65 065 a fu mamma esatto un po' puro 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 075 adesso è io adesso è io sensibilità ah no sensibilità sensibilità moltiplicatore sensibilità controller moltiplicatore sensibilità eh vai eh 065 zoom basse eh 065 zoom elevato battle royale attenzione gas in avvicinamento procedere alla zona sicura no vabbè mi si è brigato raggiungiamoci lì ok ci faccio no ci faccio che fa male che sto va schifo eh cosa faccio sensibilità quando ti enumeri in rocciacchino tipo quando ti enumeri in piccirilla o senza america esatto ma è tutta una cosa faccio un grido è proprio tutta una storia proprio eh sì perché tu è come se fosse spallato elimina tutti i passagli nell'area operativa eh io non me ne sono accorto di questa cosa ma ci sono video in città allora così stiamo in città ora cazzo mi fai caprizzo a caprizzo mi faccio uscire proprio a vero il suo spazio allora se non mi è strano a giocare una cosa con André vabbè c'è una cosa con André vabbè 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 e una cosa che non mi scordo mai è quando mi hanno detto quando l'ultima è tutta la partita questo non mi scordo mai più cazzo mi faccio un shop che mi serve c'è stato un sacco di munizioni quello che vogliamo fare mangi che facciamo? 3, 6, 4, 5, 4, 3 può mancare una linea? prendiamolo un ragazzo leggendario si metto per coppa arriva un lancio di equipaggiamento abbiamo un sistema troppo si che vuole non lo fai mai, non lo faccio che è successo? per un'altra parte non lo faccio vorrei dovremmeno aiutarci voglio mettere l'uomo! voglio che al lab ci stanno usciuti ma che non mi sa la cassa che ho po' l'asta? mi sa anche una cassa ma non avevi ma sta a basci qua qua che sta a ca? ecco voglio che questa non è la corazza corazza trovata corazza trovata mi ha fatto un lancio in coppa a prison comunque voglio al lab ci stanno usciuti ma via voglio ma cominciamo a contattare in coppa a facebook comunque facemmo l'appuntamento domenica a Foley ma fare un menere poi noi siamo tre avete un lancio d'equipaggiamento in arrivo beh e si paramo ce l'ha parato eh su tre ho preso un po' cassa in arrivo zona sicura riposizionata che sembra beccano quella zona sicura ha 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 oh ma lo faccio più stasera eeeh stanno attuando troppo a prison oh oh stanno 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 costando la talla di prima ma stanno a casa russa ma iniziali e a terra uno morto a terra due vai vai vaffa come ti trovi questo fai io vado che adesso proprio eeeh capito oh che si è? brava che si è la prima cosa che ci hai fatto? ora non lo so è giorecchio e nanzo mi è passata già io ho fatto io ho 41 m2 terra 1 io ho fatto non lo so sai la taglia identificato fuoco su quel bastardo c'è il sanato c'è il sanato stacca voglio venire muro allo qui è in discesa nell'area occhio in alto è blu è blu stacca io e mi ho fatto questa cosa prossimo lavoro stavano 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 pure stavano sei stavano amore stavano 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 piantando stavano stavano Oh, Luca, che una ramma? Cassi Nari, alla nuova zona sicura! Eh? Che una ramma? Un primo nemico vi sta braccando, occhi aperti! Ma roba, puttana! Prezzi delle stazioni di acquisto ritoccati! Finale! Oh, Luca, non potete... Così, per... Oh! No, non mi stai piano, chi te la torre? Stamparandero! Mi d'oro! Luce, fammi zan! Ma la botta! Saru! Eh, mi hanno spagato di fronte, voglio! Ah, non sto, voglio! Oh, 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 oh! Un canno! Ucili a canna, lì sei individuato! A prendersi! Sta nell'aria, occhio in alto! Se vuoi si dà la trovata, voglio! No, no, no! No, no, no! C'è bombardato! Morto! 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 Eh, ci stanno andando! Mamma mia, mamma mia! Oh, oh, oh! Carabba! No! No! Ma non c'è l'auto, questo bombardamento! Non lo so! E chi è lui? Che sti che è morto? Mi ci metto caddini! Mi ci metto caddini! Oh, no! Arriva il gas! C'è un'altra parte! Hai craccato! Oh, la quic! Oh, c'è l'auto! Non è lì! Oh, c'è l'auto! È morto! È morto! È morto! Dobbiamo portarci nella zona sicura! C'è l'auto! È morto! È morto! Ero l'auto! Ero l'auto! Buon gioco! Buon gioco! Anche la ramba è graccata! Ma in nessun pallone di lancio? Carazzo! Carazzo! Ma c'è l'auto un mio? Eh, sì sì! Sì sì, salga lì! Salga lì! Sì, salga lì! Sì, salga lì! Sono due ore a 48 metri! Carazzo! Carazzo! Ricordate lì! avete evitato l'inseguimento ottimo lavoro dei medicinali ci hanno schiacciati ma pare la partita mi ha fatto buono però non mi ha visto a chi lo è merda allora voglio una già apprezzata ancora la cosa dice la verità ma è mano mano io mi vedo la cosa che cosa dovrei farci caso preparatevi per bene che c'è a fare a casa Paolo la mila è più stabile che c'è a fare che c'è a fare che tu quando spari non smiri più come prima ok eh volu volu mette ancora il canzo nooo ostile in discesa nell'area occhio in alto non faccio il metto il canzone adesso non ha fatto tu vuoi un revolver rebotto è morto ha battuto sono sotto a caso ostile in discesa nell'area occhio in alto nooo vogliamo battere oh annacce aveva fatto i trucchi i'm a scout man pi 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 ahahah ahahah ragazzi c'è un piccolo intoppo eh ti preoccupare vai vai ci sono ci sono ma ci sono ahahah eh accettate qualcuno tu no che Paoletto eh chi sono Paoletto che sei c'è? ahahah 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 no c'è pure ahahah u� ma Wide vuol dire il luna mezzo io spengo le trasmission e pure riscaldatevi per bene tra poco prima marina giù cimiterà già portavamo cimiterà ora devo trovare i computer in piccolino no 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 ma l'indicezione non serve una cosa particolare no ragazza giovane che ci vissi in coppia ma non stanno quei mini pc che chi li costano quando in un pc normale è troppo esagerato soldato nemico in arrivo il riscaldamento è finito chiaramente imminente nella zona di guerra descriviti un po qualunque non so quanto ne è girato ma ho capito perché non ho spazio come serve una cosa piccolina ma vogliamo organizzare per il giorno verso il tuo reggimento la facciamo per bene che si accorta sta cosa bersagli disponibili al lavoro bersaglio taglia identificato fuoco su quel bastardo a chi serve quella granata tattica 39 euro ah come va a bomba a f*****e tengo più tutti da questa regga stai con questa maschera un gestico che è mannato ostile in vista ma quello è con il filo o no col filo col filo col filo attenzione un team nemico vi sta dando la caccia ma col lanci ahi attenzione un team nemico vi sta dando la caccia con me la potiamo farla ci voglio vado oh ok avete un lancio di equipaggiamento in arrivo ma non è un lancio di equipaggiamento in arrivo ma non è un lancio di equipaggiamento in arrivo ma non è un lancio di equipaggiamento in arrivo ma non è un lancio di equipaggiamento in arrivo a me piacesse l'operatività l'operatività l'operativizzazione è la casa russa ma per la casa russa che significa arriva in gas ma vai giù ma vengo qui avvio scansione radar oh è giunta oh tutto apprezzio tutto l'anno va fatto ricca è apprezzato vediamo un giorno poter attacca ecco il contratto scaduto abbiamo perso il bersaglio a nuova io mi a nuova oh io sono grossanni sono venne a casa che è lì? è il blocco che c'è un tiratore ho la cracata, la cracata è due è un po' è un po' è un po' è un po' no è chiaro ma i vannanziare wow ma non li ha visto i seguitori mi hanno colpito la terra morte e non mi manca la terra pure ti aveva fatto un lancio questo scema voglio manca piano mentre l'arma mi allogano corto la cadenza a te mi colpirono scema gas in movimento l'amazzona sicura è individuata scuriccio dello sceriff ma ci sta a mettere oh sceriff c'è da gioco uno di standard assist stagoppo 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 colpi di grosso calibro stagoppo 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 ma che stagoppo stagoppo quella che si sta stagoppo 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 Oh! ah, a me un fascino... ...fai sinceramente Oh, pollo Lo fa, lo fa E-e-eh, lo fa Bersaglio taglia identificato! Fuoco su quel bastardo! Viuutini mola incontro dal lago nero, ma f*** Bersaglio taglia eliminato, ben fatto! Nooo, voglio un saperto pare che tu! Nooo Non stai Non saperto pare che tu! Che cosa strano, mica muro quando zappo pare che tu! Ma nessuno mi ha sparato Ma nessuno mi ha sparato però Sto subendo il fuoco nemico Sto colpito Ostile in vista Non lo identifico Oh Una a terra Questa è la mia arma, si? Ah, stanno gente qui, voglio un pozzetto 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 Mi è piaciuto, si Ma questo sta sempre qui Oh 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 Ma come fa questo sta sempre qui? Voglio un ucciso Ma Ma Qua Quando ha fatto 30 kg questo ciò? Nooo Mi hanno avvistato! E' un pozzetto Uccisione Passagli Un pozzetto E' un pozzetto Guardi che la campano poco zi gaffello E' un pozzo E' un pozzo E' un pozzo Spesso Sì E' un pozzetto E' un pozzetto E' uno E' uno E' uno c***o il p***o la vannuia come c***o c***o in arrivo no c***o uno a terra, voglio un c***o da c***o un c***o nemico in discesa nell'area pericolo scampato voglio capirmi un attimo l'esplosione aspetta stammarezzando c***o c***o t***o c***o 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 c Stanno campionato all'entrata, come on! Mi sparrano! Anderazzi, mammi! Ma no! Non toccare la mia squadra! Eh, ma stanno ritando il coraggio, capito? Alla, stanno ritando il coraggio! No, dai, bravo! No, dai, bravo! No, dai! Termite la lanciata! Tagutavo! Tagutavo! Oh no, ma... Ripuntano! Guarda dove stai! Guarda dove stai! Buono! Ci hanno schiacciato! ... Il prezera, sai si, sei il corvo, K'a quel pogaccio che si parava in singleton! Te ne vi, sicuro, va all'icolo sull'n'acommando con venti che si parava in passivo. E breve, si parava in botavo! Eh, k'è shè! K'è shè me che è morto! Eh, k'è shè me chi. Ah, k'è shè me gli... Sì, che cazzo fai a colpa sì? Siamo in luoghi. Siamo in luoghi. Volevamo venire a prendere con la... Non è fuori. Io che sia l'Urduma con me, eh? Sì. Uno for me. Sì. Nemico in discesa dell'aria. Sono rimbravi. Centro! Che impegno è amato! Che impegno è amato! Occhio in alto! Sì. 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 Fuoco fuori. Fuoco autorizzato su tutti i bersagli. Sì. 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 Allora, la cassa è la sua. La cassa munizionata, anche io voglio con i tè Ho marcato dell'equipaggiamento Siamo tutti nella zona sicura UAB alleato in suo volo, avvio scansione radar Potremmo uno scambio, scambio Ah, controllo Sottotituzione marcata Ah, rendo sta chiss' Sto a sinistra Bersaglio taglia disponibile, diamoci da fare Oh, sta l'angolo, andrei Oh, hai capito chi sta? Fatto? Ah, ho capito questo bucuro Ho capito questo bucuro Ho capito questo bucuro Ma quanto è il coraggio, questo bucuro Ma quanto è il coraggio, vieni, vieni, vieni Arriviamo un lancio dell'equipaggiamento Il coraggio taglia eliminato Bambi, vieni, 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 vieni Vieni, 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 vieni Vieni, 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 vieni Vieni, 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 vieni Vieni, 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 vieni Gas in arrivo, spostamento della zona sicura Abbiamo in coppa Abbiamo pure il shock UAB, vieni, vieni Allora, vieni, vieni Guarda è sotto UAB, alleato in sorbolo Avvio, scansione Che è marcatola Ti prendi, solito I tank di 210, sì, lo sò Li tengo pure, io sò Siate, salvi, avete seminato gli inseguitori Ma non si va... Giubbi, copp Wab, i preso io sto ancora a palastra che c'è a palastra che c'è sto qui è stato anche bersaglio taglia è un uovo di qua maschera antigas identificata vieni assoluto no, vieni a prenderlo 44 44 è una chiesto che la macchina UAP alleato in sorvolo appio scansione radar oh la gettata che cornuccia ma c'è chi ha fatto un mucca la gettata su che bastardo ma ora sono chiuso scemi con la macchina eh voglio un niente peggio che ce n'è non mi sa che la coppia è stato inviato avviva giù e ha già cipigliato indico un oggetto scusate il mucca indico la meta avete del gas in arrivo quasi una macchina taglia eliminato ben fatto presi a noi poveri non puoi mettere niente tutti nella zona sicura presi stanno pochino stanno avvicinando stanno avvicinando vieni 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 Non c'è nessuno che non c'è, Andri. Eh, non c'è nessuno. Gassi in arrivo, spostamento della zona sicura. Eh, non sto l'angelo, vado. Saldi in corso. Prezzi delle stazioni di acquisto ritoccati. Ora possiamo scendere proprio sotto, capito? Senza che abbiamo preso. Eh, andiamo a casa russa, allora. Eh, brava, parla. Signalo una stazione di acquisto. Sì, sono già sotto, ok? Guardate il bombardamento, cosa? Mi tengo qua, fai qui. Eh, tutto, 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 tutto. UAP, alleato in sorbolo, avvio scansione radar. Mi ha appiglianato, eh? Guardate qui, UAP. Oh, chi sape? Bombardamento. Guardate qui. 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 Ah, ci lascia lì! Passa su Lissi che sto facendo! Ah, poi serve una ricognizione! Stai capendo via! Sta sul tetto! Sotto c'è un bombardamento! Ma no, non lo sai! Non è mancato! Non è mancato per fare il rifornimento! Sta su Lissi, sto urnuto! Ostile in discesa nell'area, occhio in alto! Allora, non lo sai, eh... Affodino, non mi capisco! Aspetta l'uomo, aspetta l'uomo! Non me ne chissà l'uomo! Attenzione, bombardamento di precisione, alleato in arrivo! Loro, in arrivo! Alla nuova zona sicura! Bravo, loro finiscono! Vedi che forse faccio miso in terra! Ma io vedi che c'è una cedera, cazzo sta! Ancora! Vedi che forse faccio miso in terra, se mi sbaglio! Questa che c'è giù? Guardate l'armi in mente! Aspetta molto, non manda lui a B! Ricognizione alleata attiva! Fugino un'uomo! Fugino un'uomo! Fugino un'uomo! Fattuglamento UAV iniziato! No, 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 no! Ho pupazzia l'esercizio! Ah! Eh, non è che munizioni! Da me in mezzo ha fatto queste munizioni! Che dove sei? Un'uomo! Un'uomo! Nuove coordinate in arrivo! No! Nuove coordinate in arrivo! Un'uomo! Inche il momento! Type perdendo terreno! Sì! E sta allargando arrivati! San l'uomo! Oh, l'uomo! raggiungo la zona oh stanno a basci a giocare a casa uno sta sotto a noi uno sta sotto a noi indico la zona bersaglio porto cazzi in arrivo nuova zona sicura contrastegnata cazzi in arrivo guarda dove si fai voglio la di 5 per su non voglio la di 5 per su non c'è il dubbio praticamente è il mio mornucco si scappa a te no 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 non c'è 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 stavolta ha vinto il nemico stavolta ha vinto il nemico stavolta grazie